Autunno, periodo di fiere di fine stagione e a Segusino dal 26 al 28 ottobre ritorna la 114esima edizione della Fiera Franca del Rosario. Il debutto sarà venerdì 26 ottobre alle ore 20 con la finalissima delle aliti di cucina Cuochi di Contrada. Cuochi di Contrada, la prima sfida all'ultimo fornello tra piatti preparati da cuochi inconsueti, è iniziato durante l'estate dove 7 contradi di Segusino si sono sfidate davanti alle telecamere e davanti ad una giuria della Scuola DF di Valdobbiadene di preparare un piatto tradizionale o innovativo. Da settembre i video sono stati pubblicati su Facebook e su Youtube dove il pubblico assieme alla giuria DF decreteranno le contradi finaliste che si sfideranno proprio il 26 ottobre in una serata shop cooking preparando i piatti davanti al pubblico che farà da giuria finale e decreterà la contrada vincitrice. Sabato mattina 27 ottobre la fiera entrerà nella tradizione con la rassegna bovina e la prima rassegna dal titolo i muli del piave accompagnate dall'esposizione anche di altri animali. Nel pomeriggio ci sarà la dodicesima gara podistica e il quinto meeting nazionale di nordic walking sulle grave del piave e borghi di Segusino e poi musica e divertimento fino a notte fonda presso lo stand enogastronomico della Proloco. Domenica 28 si inizia di buon mattino con le ricche bancarelle della grande mostra mercato. Alle 9.30 ci sarà il quinto tractor ad uno di mezzi agricoli che sfileranno per le vie del paese seguito dal pranzo preparato degli alpini e nel pomeriggio la quinta rassegna cinofila amatoriale segusinese. Il concerto della banda municipale di Segusino e tante altre iniziative fino a tardasera. Tutte le info sulla 114esima Fiera Franca del Rosario che si terrà a Segusino del 26-28 ottobre si possono trovare al sito internet www.prolocosegusino.it o alla pagina facebook Proloco Segusino.